Lo ha segnalato anche l'osservatorio dell'ASAPS, l'Associazione Nazionale Amici della Polizia Stradale, dedicato alle morti verdi. I numeri sono ancora alti e non accennano a fermarsi. E purtroppo in questo periodo dell'anno gli incidenti nei campi aumentano con un risvolto spesso drammatico. E anche questa mattina a Fognano, sui Colli Faentini, un altro gravissimo incidente. Un pensionato di 73 anni ha perso la vita durante una manovra nei campi. Sull'esatta dinamica di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione, che sono intervenuti sul posto e hanno svolto i rilevi di legge. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, pare che il 73enne si trovasse alla guida di un trattore per recarsi al podere di famiglia, quando improvvisamente nell'effettuare una manovra ha perso il controllo del mezzo, finendo in una scarpata profonda una decina di metri. L'allarme è stato dato intorno alle 11.45 da parte di un residente del posto che, attirato dal rumore del motore acceso, si è reso conto della gravità della situazione. Sul posto sono intervenuti i tempestivamente sanitari del 118, con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Nonostante il prodigarsi dei medici, il personale di Romagna Soccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 73enne.